Ciao, Asso. Ciao. Non dovevi essere qui. Dovevo essere lì, ma eccomi qui. Sono lì? No, sei qui. Sì, lo so che sono qui, ma loro sono lì. Sì, sono lì. Vado lì, stai qui. E la partita come va? Chi vince? Il marsigliese. Vinceva. Allora, Asso, scommettiamo su di te. Bravi, avete già vinto. Passo. Vedo. Un bel full. Tre re e due fanti. Però... Per me basta. Ho perso tutto quello che avevo. Grazie, ragazzi. Sarà per un'altra volta. Salve, marsigliese. Che ne diresti di continuare con me? Con piacere, Asso. Sto cominciando a scaldarmi. Tra poco avrai freddo. Perché? Ti lascerò in mutande. Vedo che sei ben fornito. Comincio sempre con gli spiccioli. Carte nuove. È la partita del secolo. Asso è fuoco. Secondo me, Asso questa volta non ce l'ha fatto. Tu sei matto. Te lo dico io, te lo dico. Centomila su Asso. D'accordo. A quanto è dato? Alla pari. Trentamila sul marsigliese. Centamila su Asso. Quanto? Centamila. Cento va bene. A me cinquemila sul marsigliese. Trentamila. Tu, barista, una birra. E la prendi da te, io mi vedo la partita. Centamila su Asso. Per me vince Asso. Ah, per me vince il marsigliese. Sei matto. Asso è il più forte. Se per me ti do una mischiatina anch'io. Asso è il più forte. Apo. Ci sto. Quante carte? Una. E tu? Servito. Parola al servito. Un cipino. Tutto quello che hai davanti. Tutto quello che ho. Più un telefono. A chi è a quest'ora, proprio mentre stavo sognando la mia Enrichetta? Pronto? Pronto? Parlo con Luigi Morgan, il proprietario della banca? Sì, chi parla? Ah, sei tu caro Luigi, come stai? Sì, ma chi parla? Sono il tuo amico Asso. Asso? Asso, ma cos'hai impazzito? Chiamarmi alle due di notte? Senti, Luigi, dovresti farmi un favore. Dirmi a quanto ammonta il mio conto. Come il suo conto? Asso, ma non si ricorda che ha ritirato tutto questa mattina? Lei non ha una lira. Tre miliardi e otto. Onestamente pensavo di più. Ma quali miliardi? Asso, lei non ha una lira. Lei non ha una lira. Rilancio di tre miliardi e otto. Non ho altro. Senti, Luigi, fammi una cortesia. Fai un salto in banca, preleva tutto quello che ho e portamelo immediatamente. Grazie. Hai diciotto minuti per pensarci. Passo. Vai a avvisare Morgan che i soldi non servono più. D'accordo. Va bene. Questo piatto è tuo. Ma levami una curiosità. Io avevo quattro donne. E tu? Tre sette. Vuoi scherzare? Sì. Sì.